Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un gioco davvero molto molto particolare, il suo nome è Ruinark. Ruinark è un simulatore di, diciamo, di divinità malvagia. È un gioco che possiedo già da tantissimo tempo, ma non avevo mai portato un po' forse per la sua complessità. Ma in realtà, essendo in sviluppo, comunque uscito il 25 di agosto 2020, costa 20,99€, 21€, quando non è scontato. Lo andiamo a vedere perché secondo me è intrigante, potrebbe piacere a molti di voi, per quanto io non lo sappia ancora minimamente per droneggiare. Io non so direvi se una volta erano disponibili questi scenari, purtroppo questi mondi, insomma. Ma sono stati disabilitati temporaneamente per riadattarli alle nuove feature. Infatti, se avviate il gioco, adesso vi comparirà una serie di features che sono state aggiunte nel corso del tempo, dei mesi. Quindi il gioco è parecchio aggiornato. Siamo un lord del male, quindi l'unica possibilità, diciamo, che abbiamo di giocare ora è scegliere noi i parametri della nostra partita. Allora, a partire dalla dimensione della mappa, dei cooldown, che al momento lascio normale, anche se potrei mettere a metà, tutti i cooldown, tutti i tempi per rigenerare qualsiasi cosa, un'evocazione, lo spawn di qualcosa, il lancio di un incantesimo è ridotto dalla metà. Le cariche delle abilità, le retaliation, sono le ritorsioni, perché in sintesi noi avremo il nostro portale. E ogni volta che noi uccideremo qualcuno del villaggio di umani o elfi, insomma, vedete che qua ci sono tutti gli umani, come elfi, demon, vampiri, lican o random, noi facciamo contro gli umani, degli atlanica, ecco, salirà una carica di ritorsione. Una volta giunti al massimo compariranno degli angeli buoni, insomma, che ci faranno una retata contro di noi. La migration è la frequenza della migrazione, cioè praticamente noi potremo spingere i vidici che troveremo in questo mondo a migrare, perché il nostro scopo appunto è quello di essere dei demoni malvagi, degli dei malvagi, e distruggere tutto quello che non è malvagio come noi. In sintesi, una sorta di dungeon keeper molto più cattiva. Le condizioni di vittoria al momento sono solo una, aggiornare il nostro portale fino a livello 8 per vincere il gioco. La sandbox invece continua all'infinito. Non mi è mai successo perché ci ho giocato veramente poco, però io immagino che a impedircelo ci siano sia le ritorsioni degli angeli, sia gli umani che poi possono organizzarsi. Ma lo iniziamo perché vi farà, secondo me, molti di voi vi farà impazzire quello che sto per farvi vedere, perché è interessante, date tempo al tempo. Tra l'altro io ho... c'è una cosa che non mi torna perché in realtà... Ah, no, 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 ok, no, giusto. Allora, praticamente qua vedete che c'è il villaggio con tutte le varie persone e poi abbiamo... sì, vedete qua tutto il villaggio con le persone. Ci sono delle caverne chiuse e poi chi può dire che noi magari possiamo andare a bucare la parete con qualche nostro potere e far uscire i fantasmi che ci sono al suo interno. Qua ci sono altri villici e noi dietro la collina ci piazzeremo il nostro... Oddio, ci sono dei coboldi, ci sono degli umani anche qua. Poi potete cliccare su Regenerate World, che magari ne facciamo uno un po' più bello, che non mi piace, mi sembra un po' sparpagliato questo mondo qui. Quindi lo ricreiamo e poi andiamo a scegliere l'archetipo del nostro, diciamo, personaggio. Ecco, questo è già un po' meglio. Ci sono... c'è un villaggetto, c'è un villaggio di coboldi di là e noi lo piazziamo qui, il nostro portale. Sì. Allora, configure loadout. Allora, abbiamo tre tipi di archetipi. Abbiamo il Puppet Master, che è praticamente il burtinaio, insomma, colui che tira le fila, i fili dei... E abbiamo l'incantesimo della... una trappola invisibile che intrappola un villager e produce due Chaos Orb. Le Affliction, possiamo usare queste Affliction sugli cittadini, quindi cosa che non fanno gli altri due. Quindi noi possiamo far diventare cleptomani un cittadino oppure farlo diventare estremamente pigro. Perché poi potremo andare anche a indagare all'interno del villaggio e scoprire quali sono i crimini, quali sono le relazioni. Quindi possiamo mettere Zizzania all'interno di un villaggio. Qua abbiamo le abilità, trigger flow. Possiamo scegliere dalla lista dei cittadini, su chi lanciarlo. Adesso non so esattamente... Gli darà un tratto negativo che possiamo scegliere tra una lista. Abbiamo il Lost Demon e abbiamo queste strutture. La Torre di Guardia, l'Impact e il Prism. Invece quello che io vorrei fare è il Leech. Il Leech ha la trappola congelante, Narcolessia, per i cittadini ovviamente, non ha abilità, abbiamo l'Envy Daemon e poi abbiamo la Crypta, la Parigione e i Prism. E io nella mia partita avevo fatto The Ravager che aveva la trappola esplosiva e il vento congelante. Affliccio niente, abilità aveva Agitate. Quindi poteva, ed è molto interessante anche questo, andare ad agitare un mostro. Io avevo trovato un Ent, quindi un albero gigante, l'avevo agitato e si sono messi a combattere contro i billici, diciamo, contro questo Ent e poi è diventato tipo un cumulo di legna non appena l'hanno ucciso. Abbiamo il Vratdaemon e poi abbiamo tutta questa serie di cose. Io provo a fare questo, la Limp. E importanti nel villaggio, vabbè, possiamo attivare o disattivare il tempo, queste valute qui. Il Mana, la Energia Caotica e l'Energia di Spirito. Se noi clicchiamo sul nostro portale, possiamo rilasciare il potere che abbiamo accumulato e dandoci temporaneamente dei poteri aggiuntivi. Qua invece possiamo aggiornare il portale e facendolo potremmo ottenere uno di questi, però ci servono 10 di questa valuta con la mano verso l'alto. Come fare per ottenerle? Beh, dobbiamo fare un po' di casino in mezzo ai villici. Io adesso attivo e vedete che abbiamo i villici che vivono la loro vita normalmente. Ovviamente Victor in questo momento sta andando a scegliere uno spot per costruire un nuovo workshop. Qua in alto, e poi vabbè, c'è la vita normale, cioè questi qui vanno dentro, minano la caverna, insomma trovano i vari minerali. Insomma, quello che fa normalmente un billico di Rimworld, così come anche di altri giochi, lo guardiamo noi in modo passivo. Gli incantesimi abbiamo la phrasing trap, quindi possiamo mettere la trappola congelante lì e una volta che ci passerà sopra qualcuno la prenderà in pieno. Ma adesso diamo tempo al tempo e intanto possiamo andare a piazzare le nostre strutture, così vi faccio vedere il menu. Spendendo punti mana, 200 in questo caso, andiamo a creare la cripta. Io vi dico la verità, non ho ancora capito esattamente come funzionano, perché adesso vedete ho spesa, non posso prenderne altre. La cripta tecnicamente va a generare U. Si è preso la trappola e vedete che si è congelato. Ho preso dei punti perché appunto sto generando questa cosa cattiva, sta arrivando il medico che lo cura. In alto vedete qui la retaliation, praticamente quando noi uccideremo qualcuno faremo qualcosa di molto grave e salirà. Intanto lo hanno curato, quindi non è morto nessuno, però insomma abbiamo generato abbastanza mana per fare un'altra cosa, che è per fare magari la prigione. La prigione permette al giocatore di catturare i villager imprigionati verranno torturati e produrranno caos. Ok, questa è la prigione. Non ho però idea di come fare Demon Circle, Demon Circle. Ah, no. Vedete che ci sono queste cose, ma non so esattamente a cosa servono. Spawning Pit. Cioè praticamente voi potete andare a mettere dei target, ma non so a cosa servono, quindi devo ancora capire, perché tecnicamente noi possiamo spawnare le cose, le varie unità. Questo spawna appunto, come ho detto, Skeletary, no, non l'ho detto, dire la verità. La prigione ci produce caos imprigionando gente, il Prisma invece permette di creare parti, diciamo, di difesa, quindi nostri, insomma, unità di difesa. Abbiamo i Demone, il Demone che è l'Envy Demon, ma non so come evocarlo, quindi dovrò scoprirlo. I mostri, anche qui gli Skeleton, vedete che hanno le loro parametri, però sono nelle riserve, quindi non ho veramente idea di come fare a spawnarlo. Abbiamo il Demone Circle, non lo so, me l'ha messo attualmente nei target, non lo so, non lo so. Comunque, l'Intel, il Target, i Villagers, e vedete che adesso abbiamo 40, abbiamo 61 punti, possiamo spenderli per avere informazioni sugli Atlannica, quindi su questi umani qui. Se clicchiamo avanti, vediamo i Vagrants, che sono altre unità, altri villaggi, che sono quelli che spesso si trovano nelle vicinanze, nelle caverne, sono quelli non ufficiali, insomma, questi qui sono altri, vedete, Moses, è questa gente qui, sono i Vagrants, ma questo è l'Impero Umano. Andiamo a rivelare i dati, abbiamo speso 40 punti, in questo caso abbiamo l'elenco completo del villaggio, con il leader, con i loro successori, con le loro ideologie, quindi la pace, la volontà di restare solo umani, quindi non elfia, e la loro, diciamo, il loro panteo, insomma, dove, di divinità, abbiamo il loro villaggio, che poi possiamo spendere un punto per andare a indurre la migrazione, quindi magari indebolirli, fare andare via della gente, possiamo, ecco, fargli questo. abbiamo l'elenco dei villaggi, dove possiamo andare a nascondere quelli che sono morti o meno, vedere, ricercare soltanto chi di loro magari ha delle determinate caratteristiche, magari robusto, coraggioso, e così via. Scusate, ma volevo andare avanti. le relazioni con gli altri, i crimini, le infrazioni, quindi il fatto di infedeltà, oppure disturbare l'assalto, i divieti, i furti, le cose serie, come il cannibalismo, l'omicidio, o le cose sovrannaturali, come lupimanale, i vampiri, le alleanze demoniache, e qua il log. Quindi noi abbiamo scoperto delle caratteristiche di questo villaggio, ma noi dovremmo avere anche la possibilità di, vedete qua, c'è un tutorial, non è ampissimo il tutorial, noi ci spiega con immagini, i controlli della migrazione, come aggiornare il portale, che cos'è quel discorso del targeting, che non è quello, le abilità, no, dov'è che era? Storing targets, puoi stipare i bersagli nella tua target list, tieni traccia di loro sul bookmark, ok, e questo abbiamo fatto, allora, praticamente noi possiamo, vedete che questo tizio qui sta andando a fare, sta lavorando, noi se ci clicchiamo sopra possiamo dare un'afflizione con un tratto negativo, narcolessia, noi gli diamo la narcolessia e lui si è praticamente immobilizzato e non sta più lavorando, è seduto, e bete, insomma, avessimo preso l'altro, l'altro demone, potevamo fare impazzire una gallina e la gallina iniziava ad attaccare, ma la cosa interessante è che i villici iniziano poi a lavorare, a costruire nuove case, ma soprattutto iniziano anche a coltivare, la cosa interessante è che io nei vecchi villici ci avevo piazzato una trappola infuocata sui campi, uno ci è passato sopra, è esploso, è rimasto vivo, ma i campi sono andati completamente distrutti, quindi li ho messi un pochino in difficoltà, così come magari aggiornando il portale, andiamo a magari a difendi, ah ok, posso summonare i minion, no, dicevo, possiamo andare a appunto questo sta pescando, ad esempio qui ci sono i whisper elettrici, io potrei andare in qualche modo a magari fargli saltare le mura, farli uscire, e mettere in difficoltà il villaggio, io adesso ho un'altra cosa, il tizio si è ripreso, però al momento vedete non riesco a capire come esponare i mostri, c'è neanche cliccando sopra col destro così, quindi non lo so, onestamente non saprei dirvi come evocarli, però vabbè, allora, nei target abbiamo prison, vediamo un po', abbiamo snatch villager, seleziona un target, prendiamo il capo del villaggio, allora, il capo del villaggio è victor, ok, quindi, quindi, possiamo metterlo nel target, ok, no, villager, target, ah, ok, devo mettere nello storage il villager che io voglio prendermi, ok, prendiamo il leader, store target, perfetto, adesso andiamo qui, select target, victor, aggiungi un'evocazione, ah, in questo caso non le usa, ok, evochiamo gli scheletri, spendiamo, eh, non possiamo, possiamo farne solo due, deploy, select leader, e col nostro demone andiamo avanti, ok, abbiamo capito anche come evocarli, li evochiamo qua vicino, durante la notte, i demoni inizieranno ad entrare in campo, ok, vanno e prendono victor subito, ok, lo stanno ammanettando però Suzette si accorta del, di quello che stiamo combinando e gli scheletri restano a difesa mentre il nostro demone porterà il loro capo dentro la nostra prigione, non me l'aspettavo questo successo nonostante abbiamo due, soltanto due scheletri, in questo caso Suzette sta per morire, credo, intanto mi prendo tutti i bonus che mi sono accumulato, ok, Suzette non sta proprio benissimo e ne approfittiamo anche per mettere una phrasing trap qualora qualcuno volesse venire a dargli una mano, intanto hanno messo in, stanno mettendo in prigione il nostro amico, tutti dormono, nessuno si è accorto di nulla, se non Suzette che però è svenuta, adesso Victor, il capovillaggio è in prigione da noi, però qua vedete che Victor ha creato, aveva creato poche ore prima un party chiamato gli esploratori e mi spiace per lui ma è stato catturato Envy è morto no, vabbè non abbiamo più i demoni sì, no, no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo ok, si è ripresa ed è andata a mangiare subito gli do la narcole non posso sono protetti dai tuoi poteri non puoi ok, niente si è protetto adesso esci di casa per favore perché vedete che non non è messa benissimo ma neanche malissimo perché è a metà vita dovrebbe passare sulla trappola congelante però intanto voglio vedere lo stato del villaggio perché il leader è Victor però Victor è in prigione se ne accorgeranno solo la la mattina probabilmente lei si sta curando intanto perché è andata a dormire intanto purtroppo una gallina ha fatto scattare la nostra trappola perché si è congelata ora i villici non troveranno più Victor vediamo intanto andiamo a vedere se abbiamo modo di potenziare rilasciare il potere e poter andare a scegliere un potere la Fireball scusate no si la Fireball abbiamo sbloccato spendendo un po' di punti la Fireball che arriverà tra qualche minuto la Fireball ci potrebbe salvare la vita perché potremmo fare un attacco massivo però un attacco massivo non si può fare perché perché poi appunto andiamo contro le ritorsioni angeliche ma hanno realizzato che vediamo un attimo cosa sta facendo sta vagando non so a dire la verità se si sono accorti che il loro leader non c'è ma penso di sì perché si sono incazzuolati neri e stanno arrivando verso di noi quindi in questo caso evochiamo gli scheletri in nostra difesa c'è rimasto solo uno scheletro via e speriamo che arrivi presto la palla di fuoco perché la Freezing Trap intanto possiamo vedere anche che la Freezing Trap la mettiamo qui così uno non si ferma neanche a curare il compagno Suzette sta arrivando a farci il paiolo e il nostro scheletro se la dà le gambe tra l'altro ok vai difendi difendi che a breve arriva la palla di fuoco prendi 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 ok Suzette sta scappando dovrebbe salire la Ritalation adesso che uccidiamo no possiamo prenderla no l'abbiamo praticamente uccisa niente e aveva anche una pozione di vita perché si stava per curare e niente mi spiace ma era un'erede al villaggio lei eh sì probabilmente sì perché non c'è più ok però Ritalation salita di una appunto come dicevo ora abbiamo la palla di fuoco lo scheletro si sta curando molto bene ok abbiamo ottenuto tre cariche di palla di fuoco in questo caso io onestamente non so come usarla quindi possiamo provare a far cavallare la caverna ma io proverei ad attaccare questi quando sono vicini vedete che si sta uh sta buttando giù tutto quindi molto interessante perché possiamo mi ha buttato giù la caverna possiamo andare a liberare magari qualche unità di mostri strani tipo gli electric guisp molto interessante vai uscite allo scoperto marani si qua li farà probabilmente uscire no se ne vivono per loro vabbè scateniamo allora il panico in villaggio allora nel centro del villaggio con questa palla di fuoco che demolisce tutto non so se adesso nel villaggio già hai letto il nuovo capo ma lui è in prigione ok possiamo provare ad aggiornare il portale dando il vampirismo uh che spettacolo aggiorniamo il portale e abbiamo tra i poteri disponibili non subito ma che potremo usare in seguito il vampirismo cioè lo potremo usare scegliere è una sorta di diciamo mazzo di carte insomma di poteri tra cui possiamo scegliere possiamo spendere punti per rirollare e il vampirismo non sarebbe male perché comunque mettere un vampiro all'interno della società degli umani e poi farlo diventare appunto un vampiro non è male stanno riparando perché gli ho demolito praticamente tutto ho consumato tutti i poteri la freezing trap gliela metto qui ok così rimane congelato si sto facendo un po' ad cazzo ma vi dico la verità però almeno vi faccio vedere un po' di gioco si potrei dargli una colessia altizia lì che sta andando induci migrazione ho usato questo potere potrei far migrare un po' di gente in modo da indebolire ulteriormente il villaggio non è il fatto che noi ci dobbiamo accanire su questi poveretti è il fatto che indebolendoli potrebbero non opporsi in modo troppo forte a noi perché probabilmente quando abbiamo rapito il capo e sono venuti a prenderci sono venuti in due uno l'ho ghiacciato ed è rimasto indietro che erano probabilmente due dei successori del capo e basta perché probabilmente i tratti delle persone del villaggio sono vedete possiamo andare a vedere il mood delle persone scusate adesso voglio farvi vedere il villaggio relazioni no crimini non questa è la loro valutazione del crimine ok in pratica sappiamo che qua un crimine serio è l'assassino quindi se magari rendiamo qualcuno un vampiro e quello uccide un suo socio non è male no cliccandoci sopra dovremmo poter vedere spendendo otto punti di questa persona il suo mood l'umore quindi l'energia cosa lo rende triste cosa lo rende felice è un gioco davvero intrigante calcolando che è un early access e quindi insomma è molto interessante ora abbiamo aggiornato il portale a livello 2 ottimo quindi possiamo rilasciare la potenza e scegliere palla di fuoco ray roll water spike no ma io voglio il vampirismo non c'è abbiamo cleptomania quindi facciamo diventare questo tizio qui un cleptomane vediamo un po' se riusciamo a fare a colpire nel villaggio una persona hanno eletto marvin ok marvin tu marvin hai bisogno di ah possiamo ah l'abbiamo definitivamente il vampirismo quindi tu sarai un vampiro un vampirla quindi tu diventi un vampiro ora quindi senza saperlo gli abbiamo infiltrato un vampiro all'interno del villaggio però questi tizi qui si stanno incazzuolando parecchio e probabilmente stanno arrivando dovevo buttare giù questo che c'erano gli elementali del fuoco non so adesso cosa stanno facendo effettivamente perché stanno andando lontano ah stanno scavando scavando a trovare gli elementali del fuoco ah si stanno facendo male da soli ok ottimo il fable spirit ottimo li metto qui lo metto qui che assorbe energia dai villici questo nostro spirito hanno ucciso tutti hanno ucciso tutti vediamo un po' marvin mut non lo sappiamo il log la rivela ha aperto la cassa del tesoro vediamo un po' se dice qualcosa del nostro attacco di eh non lo so comunque lui tecnicamente dovrebbe diventare un vampiro gli abbiamo dato il vampirismo quindi speriamo speriamo che lo diventi allora ragazzi questa è stata veramente una bella partita a me è piaciuta non mi aspettavo comunque di riuscire a fare così tante cose pur essendo io assolutamente impreparato a questo gioco abbiamo sbloccato anche nuovi edifici il kennel permette al giocatore di imprigionare i mostri possono possono summonare i mostri imprigionati in battaglia ok per riusarli al nostro vantaggio ok ottimo questo è ancora il corpo di quella che abbiamo ucciso prima su Z uccisa dalle scherze il nostro imperio del male andrà avanti fatemi sapere Ruinac gioco che probabilmente molti di voi non conosceranno fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao